Ciao a tutti amici di Poker Factor e non solo, finisce di nuovo il day 3 questa avventura al main event. L'anno scorso anche finì al day 3, però l'anno scorso avevo meno amarezza di quest'anno perché partì più corto e riuscì a risalire fino intorno alla 900esima posizione. Quest'anno invece partivo con uno stack discreto, per il tavolo in realtà ero corto perché 72.000 quando tutti avevano più di 100, quindi tranne uno. Capisco subito che il tavolo è molto complicato perché è tipo la seconda mano, vanno rotti in un 6-bet in due, uno gira le dame, tra l'altro show vanno in 6-bet le dame, l'altro i cap. Continuamente 3-bet e 4-bet, faccio due aperture e vengo 3-bet due volte, non posso mai mettere una volta k-jack e una volta invece asso 7 da bottone. Splitto un piatto a socappa contro a socappa dove apre uno, flattano in due, io metto il resto a 50, gioca solo uno e splittiamo. E poi arriva la mano che mi fa determinare la mia uscita che in realtà è strana perché il giocatore con cui l'ho giocato è stranissimo. Ha aperto quasi tutti i colpi, limpava per tribettare, per rilanciare le aperture, cioè giocava stranissimo. Comunque limpa da UTGP1, io sono posizione dopo di lui, tribetto 5100 con 10-10, lui mi fa 15-100. Su altri giocatori la gioco è diversa, su di lui decido di flattare per vedere il flop, comunque se scende un flop favorevole giocarmi resti. Scende 2-3-4 rainbow che più favorevole non si può, in realtà lui ha gli assi, mi mette resti, su di lui non riesco a passare, niente. Brutto perché non sono mai stato in gioco questo dei tre, il tavolo peggio di così non si poteva, pazienza. Saluto tutti. Grazie. Grazie. Grazie.